Con il comune di Terra Nuova abbiamo veramente un ottimo rapporto, lo vediamo in questo momento di pianificazione ma in realtà è un rapporto che viene portato avanti durante tutto l'anno dove appunto gli scambi anche tra i tecnici del comune e del consorzio ci sono spesso proprio per portare all'evidenza del consorzio le esigenze di questo territorio. In particolare in questi giorni ci siamo visti proprio per la programmazione del piano dell'attività 2022. Partiamo noi da una proposta di piano che ovviamente tiene conto delle disposizioni normative e quando la Regione Toscana ci ha affidato il reticolo di gestione ha dato anche delle indicazioni ben precise come esempio delle frequenze di intervento nei vari corsi d'acqua. Quindi partiamo da questa base per poi discutere parlare insieme agli amministratori comunali e verificare quali altri tatti e quale altre emergenze ci sono. È anche molto importante il fatto che noi teniamo sempre conto anche di tutte le segnalazioni che vengono dai cittadini e che appunto vengono inserite in questa fase appunto di programmazione. Siamo in un momento particolare perché una volta poi redatto tutto il piano, quindi sentiti tutti e 54 i comuni del comprensorio, questa proposta viene sottoposta all'attenzione della Regione, deve essere verificata, validata dal Genio Civile e poi dalla Giunta Regionale. A quel punto poi parte tutto l'iter di progettazione che porta poi a fare gli interventi. Ci tengo anche a sottolineare un importante accordo che il Consorzio ha sottoscritto, di cui noi ci siamo fatti promotori, con la CSAI che è un elemento di non poco conto perché permette di poter smaltire le terre recuperate dalla ripulitura dei fossi con costi contenuti e in loco, senza andare a portare queste terre in giro per la Regione o addirittura per luoghi più distanti. Il principal modo ci tengo a sottolineare gli interventi che dovranno essere fatti sul bordo di Farnibona, delle ville e delle sciopate e ci tengo a sottolineare invece l'ottimo lavoro fatto sul Torrente Ciuffenna che appunto oltre a permettere una minore pericolosità per quanto riguarda gli eventi di pena ma è anche un colpo d'occhio importante per quanto riguarda il decoro urbano.